Blitz antidrogue in un appartamento di caselle in Pittari, così come previsto durante la perquisizione, sono saltati fuori sostanze stupefacenti e denaro incontante. In carcere è finito un 45enne del posto, c'è Elibe nulla facente, già noto alle forze dell'ordine per altri reati. A fare irruzione nella sua casa, situata nel centro abitato, sono stati i carabinieri di Sanza, quelli del nucleo operativo radiomobile di Sapri e le unità cinofile di Ponte Cagnano. Grazie al fiuto dei cani, i militari sono riusciti a recuperare 110 grammi di droga di vario tipo, che erano stati nascosti in più punti dell'appartamento e 9 mila euro in contante. La perquisizione domiciliare ha fatto seguito ad una serie di accertamenti eseguiti dai carabinieri sanzesi sotto la guida del comandante russo nell'ambito dell'attività investigativa a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di sua competenza. I militari hanno accertato che l'uomo era solito smerciare la droga ai suoi clienti anche nel centro del paese. Il blitz ha consentito agli inquirenti di recuperare ulteriori prove per le tesi da sostenere dinnanzi alla procura di Lago Negro, alla quale è stato affidato il caso. Il 45enne per ora deve rispondere di detenzioni a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.